La mia presentazione sarà una trentina di minuti e parlerò di un progetto, quindi una cosa un pochino più pratica rispetto alle presentazioni che avete visto finora. Io sono un inter, faccio uno stage a Google in Francia e sto appunto utilizzando tutte queste varie tecnologie per fare un progetto applicabile nel mondo reale ed è praticamente un progetto di analitiche su Google+. Voi magari penserete utile nel mondo reale fino a un certo punto, però in realtà Google è uno strumento molto utile a livello aziendale come social network interno delle aziende, quindi questo progetto è pensato più che altro per un ambiente business. Ciò non toglie che tutte le tecnologie che mostro e i pezzi di codice che vi mostrerò sono utili in qualsiasi applicazione anche consumer. La presentazione si vede un po' piccola e strecciata, il codice sarà difficile da leggere, quindi c'è scritto lì l'URL, ve lo riscrivo qua, nel caso qualcuno voglia guardare il codice potete andare a questo URL che è in questo video. Allora prima di tutto qual è il progetto? Il progetto praticamente l'idea è di partire da quello che voi vedete su Google+, quindi il feed delle notizie, delle news di Google+, tutti i post che vengono condivisi, e trasformarlo in un'applicazione interattiva che possa far vedere i report di cosa succede sul dominio, quindi delle statistiche riassuntive, quanti post ci sono, quali sono i contenuti principali di questi post, qual è la tipologia di sharing che viene fatta più spesso e in parallelo anche un sistema di ricerca avanzata, perché al momento su Google+, non ci sono sistemi per cercare in maniera specifica, per esempio tutti i post pubblicati il giorno tal dei tali con contenenti questa stringa di parole per esempio. Quindi creare degli strumenti un po' più business, un po' più professionali per gestire un dominio Google+, quello che farò vedere rapidamente sarà diviso in sei parti, queste parti partono dal dato grezzo di Google+, che è quello che viene fondito dall'API, fino ad arrivare a un'interfaccia interattiva che è sviluppata con AngularJS e permette di mostrare in real time questi dati. Quindi fase 1 prendere i dati, le API, i cron job per sincronizzarli in background, le task queue fase 2 è salvarli con il data store di cui ha parlato Bastian, fase 3 poter cercare questi dati in una maniera molto flessibile con le search API fase 4 elaborare questi dati e queste sono diciamo tecnologie non particolari della Google Cloud Platform ma sono tecniche generiche che si applicano in ambienti ad alta scalabilità fase 5 presentare questi dati quindi con API REST per esempio le Google Cloud Endpoints e fase 6 ultima fase AngularJS e le Google Charts per creare un'interfaccia interattiva. Tutto questo viene realizzato con Google App Engine e Python quindi i code examples saranno in Python. Allora sicuramente molti di voi penseranno ma io questa cosa so già farla, non vedo perché devo impararmi 400 tecnologie nuove per riuscire a fare una cosa che posso benissimo realizzare con altri tool. I vantaggi sono stati spiegati già ampiamente oggi ma fondamentalmente li ho riassunti in tre punti che sono il primo è un codice unico, un singolo deploy e scalabilità infinita se vengono mantenute certe regole di sviluppo. Il secondo è una suite di tools coesiva, coesa e completa per sviluppare tutto il necessario. Io in questa presentazione utilizzo 100% tecnologie su piattaforma Google da origine dei dati fino a presentazione HTML, JavaScript. E terzo punto perché obiettivamente dopo tre mesi, quattro mesi che lavoro su questo progetto è divertente, è un set di tecnologie che possono anche rendere piacevole lavorare. Quindi partiamo dalla fase iniziale, le Google API. Google API sono delle API REST come avete visto già prima e la cosa positiva è che c'è una quantità vastissima di API, sono 176, 186, qualcosa del genere e sono praticamente tutte uguali come formato. Vuol dire che se voi imparate ad usare un API di Google, per esempio YouTube, poi utilizzare quella di Google+, utilizzare quella del previsione del meteo o delle predizioni, qualsiasi API sarà più o meno la stessa cosa da usare, anzi esattamente la stessa cosa perché il client è proprio lo stesso. Quindi è un ottimo investimento, avrete un solo client, non dovrete installare niente perché è integrato in App Engine e non dovrete neanche aggiornare niente perché appunto fa parte della piattaforma. Questo qua è un codice completo ad eccezione della parte di autenticazione per fare delle chiamate sulle Google+, API. Quindi quello che dobbiamo fare è importare l'API, semplicemente from API import build. Questo è generico, qualsiasi API Google funziona con questa linea di codice. Creare il nostro oggetto API Google+, quindi l'API è plus, la versione è v1 domains, dopodiché possiamo già iniziare la prossima riga di codice a fare richieste e otteniamo come risposta degli oggetti in Python tranquillissimi che possiamo usare nel nostro codice. Quindi appunto come dicevo abbiamo centinaia di API a disposizione, i due vantaggi sono che sono tutte riassunte nel sito di Google, nell'API console, che potete vedere, penso sia API, no, cercate API console su Google e lo trovi. E soprattutto sono tutte facilmente provabili dall'API Explorer. Questa qua, probabilmente ci è stato spiegato prima, la cosa veramente bella dell'API Explorer è che non è un sito statico generato apposta per quell'API, ma è qualcosa di dinamico, cioè io se modifico quest'API, automaticamente l'API Explorer si adatta e mi mostra tutte le possibilità dell'API in real time. Ed è esattamente quello che potete fare voi con i Google Cloud Endpoints. Volevo fare una piccola demo per farvi vedere appunto come funzionano queste API e per fare la demo sfruttiamo l'Interactive Console. Quello che vedete in questo momento è praticamente la console di sviluppo di App Engine. Cosa vuol dire? Quello che faceva vedere Bastian prima era la console di App Engine sul deploy. Cioè quello che voi vedete quando l'applicazione è caricata sull'infrastruttura Google. Però mentre sviluppate, chiaramente lavorate in locale. Quindi c'è un server, App Engine Development Server, che simula l'ambiente di deploy in maniera molto precisa e vi permette di avere accesso a un set di tools per fare delle prove, per fare dell'analisi sul vostro codice in development. Allora, vediamo se ho qui a portata di mano il codice. Ecco qua. Quello che possiamo fare qua praticamente è eseguire degli script di codice in Python che vengono eseguiti sul sorgente dell'applicazione. In questo caso l'applicazione, semplice applicazione in Python, quindi noi eseguiamo delle righe di codice che vengono eseguite nell'ambiente di App Engine. Non state a guardare più di tanto gli import, quello che conta è la parte successiva dove creiamo un API Google Plus e possiamo iniziare a usarla. In questo caso siamo autenticati con il mio account, bisogna fare un esperimento, per esempio. Allora, service è il nostro oggetto API. Vogliamo per esempio vedere il mio profilo. Ma tutto questo è tutto in locale? Sì. Tutto quello che vedete? Sì, sì, sì. È quello che dicevo. Certo, tutto quello che si fa in App Engine, non 100%, chiaramente è la stessa cosa, però una buona approssimazione può essere simulata in locale. Questo è un vantaggio netto, per esempio se conoscete piattaforme come Roku, che è un po' corrispettivo su piattaforma Amazon di App Engine, loro non hanno dei tool per simulare così bene in locale il comportamento dei datastore, dell'ambiente di sviluppo e tutto il resto. È un vantaggio appunto poter simulare un ambiente quasi reale in locale. Scusami, però i dati li piglia poi da remoto nel momento in cui fai... L'API, la chiamata all'API chiaramente è sul... Sì, certo. Sì, sì, sì. Non capire se si portava giù una cache di dati per... No, 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 le API rimangono quelle deployate di Google Play. Adesso vi faccio vedere direttamente... Scusate, sono delle idee integrate. Per il grande servizio che lo paghava... Sì, specifici per App Engine in realtà no, però quello che serve è un qualsiasi di Python per funzionare. Per esempio PyCharm è il più evoluto a mio parere da questo punto di vista e funziona molto bene, io ho usato per sviluppare questa applicazione. E poi c'è l'ambiente development server con l'interfaccia grafica per OS X. Sì, però è per Python. È per Java. Sì, 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 ma se facciamo una cosa del genere anche per la parte locale. Per il deploy non serve niente per il deploy in locale. È automaticamente rifresciato con la build. Quindi non c'è da fare deploy. Tu mentre scrivi vedi l'aggiornamento in real time. In Python, sì. Ah, scusa, sì, sto parlando di Python. Allora, il fatto che tu cambi il soggetto della costituzione automatica in Python di deployato è fatto. Invece in Java, se cambi tutto il distaccio in HTML, quello cambia subito, ma se cambi il codice di Java della costituzione devi fermare il server e fare la costituzione. Ok, allora passiamo a una piccola demo. Poi tutte le domande, anche quando finisco questa parte di discorso, si possono andare avanti con le domande. Questo qua è il profilo Google+, vedete ci sono informazioni, beh, informazioni mie sul mio profilo Google+. È un dominio di prova, quindi sono abbastanza informazioni casuali in realtà. Per esempio, vediamo la data di nascita, 28 ottobre. Noi possiamo fare una richiesta all'API sul risorsa People, essendo un'API REST. Voglio prendere una singola persona, quindi get. Lo user ID della persona è la mia email, quindi lucacioriaappseveryday.com. Dopodiché eseguiamo la richiesta, execute. Stampiamo quello che otteniamo in una maniera leggibile. Vediamo se funziona. Perfetto, wow, primo colpo. E qui abbiamo una risorsa REST che è diventata un oggetto Python, quindi praticamente in una riga di codici abbiamo scaricato il mio profilo Google+, e possiamo usarlo direttamente. Quindi qua se noi selezioniamo il campo birthday, dovremmo vedere la mia data di nascita, esattamente. Possiamo fare altre cose, sono molto flessibili questi API, per esempio possiamo avere accesso alle activities, cioè i post che vengono fatti sul dominio, al posto che people scriveremo activities. La sintassi è sempre la stessa. Le possiamo listare sempre per l'user ID la mia email. Qua dobbiamo indicare le mie activities, quindi dello user. Birthday, chiaramente in questo caso non esiste più. E, che so, prendiamo la prima per esempio, anzi no, facciamo tutto. Vediamo se funziona questa volta. Eccoci qua. Quindi qua abbiamo una lista delle activity. È un po' poco chiaro quello che vedete qui perché ci sono un sacco di campi che in realtà non ci servono. Una funzione molto buona dell'API, che è standard su tutte le API REST Google, è che possiamo limitare la richiesta ad alcuni campi. Quindi noi possiamo selezionare fields e con una sintassi abbastanza semplice possiamo dire limita la risposta a quello contenuto in items, object, content. Cosa dovrebbe farmi vedere, se non sbaglio, soltanto il contenuto dei post che ho fatto sul dominio. Esatto. Perfetto, quindi qua si riesce a leggere abbastanza, posso fare un po' di zoom magari. Quindi in questo modo vediamo il contenuto, l'oggetto object content, il contenuto del post. Tutto questo che vedete è completamente in real time, quindi se io qua faccio un bel post, un bel post, e rifaccio la mia richiesta. Forse così era troppo in real time. Ah no, perfetto. Un bel post, quindi qualcosa come un secondo dopo il mio post è andato in America, si è propagato sulla rete Google, da poi che è stato postato sull'infrastruttura API di Google io l'ho ripreso e l'ho scaricato in locale. Abbastanza impressive. Esatto, questo è un discorso abbastanza complesso e se vuoi dopo possiamo spiegarlo più in dettaglio, però il concetto è che questo è fattibile soltanto per profili business, in cui chi detiene l'autorità su questo dominio di Google Apps delega il controllo dei profili. Cioè non si può fare con un profilo Google Plus consumer come quelli che avete voi, è soltanto in azienda, quindi è un caso molto particolare in realtà. Perfetto, quindi questo qua è un esempio per farvi vedere come le API sono facilmente utilizzabili e la stessa cosa che ho fatto qui potete farla con qualsiasi API, quindi YouTube, Prediction, qualsiasi API che vi viene in mente di Google funziona allo stesso modo. Present. Andiamo avanti con la parte dopo che siamo un po' tirati sui tempi. Giustamente abbiamo scaricato le nostre informazioni dall'API, dopodiché vogliamo salvare nel nostro backend di App Engine, però non vogliamo assumere una persona per schiacciare il pulsante refresh ogni due ore, ma fare qualcosa in maniera automatica. Per questa cosa abbiamo due funzionalità fondamentali, sono i cronjob che sono presenti i cronjob di Unix, se conoscete quelli, sono dei modi per chiamare un URL ogni tot tempo. In questo caso, in questo esempio, l'URL StartSyncActivities viene chiamato Every24Hours. Il cronjob va a chiamare un URL che esegue un metodo che però non fa direttamente il sync, perché se io faccio una richiesta a un URL di un'applicazione App Engine, come tutti gli URL su server web, il limite di tempo è di 30 secondi, tipicamente. Quindi questo non è sufficiente per fare un sync. Allora a questo punto utilizziamo le push cues o i backend, come erano stati spiegati nei talk precedenti, per fare in background il sync di tutte le activities da Google Plus alla nostra applicazione App Engine. Questo giusto per farvi vedere che c'è un'infrastura completa dietro che permette di gestire questi task in background, con delle tempistiche costanti, senza dover trovare altri server, altri tool, è tutto integrato nel pannello di controllo di App Engine. Non solo, se voi andate sul vostro pannello di development potete vedere le task queue presenti e i cronjob presenti direttamente anche nello sviluppo, quindi senza dover neanche fare il deploy e già utilizzarli in development. Next, quindi abbiamo scaricato tutti i dati da Google Plus, li scarichiamo ogni qualche ora, dopo di che dobbiamo salvarli. Li salviamo nel data store. Data store, come spiegato da Bastian prima, il data store è un database no SQL, quindi è un po' un key value store dove io ho un oggetto, lo salvo e posso riprendermi questo oggetto attraverso la sua chiave e delle query un po' più complesse. Partiamo da un oggetto semplicissimo, person, che è la persona di Google Plus, avrà due proprietà, il nome e l'email, proprietà di tipo stringa. Successivamente creiamo l'oggetto activity e qua si vedono un po' di altre funzionalità interessanti, per esempio l'oggetto activity può contenere proprietà di tipo testo, stringa, definendo delle choice preimpostate, quindi non è niente di questo succede da livello di back-end, queste sono feature del client in Python, quindi il client Python stesso va a controllare che il valore faccia parte di quella lista dei valori. supporta date time, supporta delle proprietà strutturate, structure property, dove posso inserire un altro modello nel modello padre, e supporta i link, key property. Quindi qua vedete che c'è una proprietà di tipo chiave che punta all'oggetto person. Ora la prima cosa che molti di voi penseranno da un background SQL è questa è una foreign key. La foreign key cosa vuol dire? Che posso fare un bel join e mi unisco tutti i person con tutte le activity per ogni person. No, nel senso che i join sono vietati, perché i join non funzionano a larga scala. I join non sono qualcosa che può scalare su piattaforme distribuite, perché non sappiamo se quell'oggetto person si troverà su un server in Nord America, mentre l'oggetto activity si troverà su un server in Asia. Quindi bisogna cambiare proprio l'approccio di ragionamento in questo caso, e non pensare ai join, ma pensare a come rendere i dati ridondanti ed efficaci da un punto di vista di scalabilità. Ed è proprio questo che volevo farvi vedere adesso con alcuni trucchettini. Qua è giusto un breve pezzo di codice per far vedere come salvare un oggetto nel data store. Semplicemente si crea l'oggetto, si popola direttamente con i dati di Python, e si fa .put, put lo salva direttamente sul data store e ci ritorna la chiave, cioè il link all'oggetto nel data store. Possiamo fare delle ricerche, quindi sì, volendo si possono fare ricerche più complesse, si possono fare ricerche per uguaglianza di stringhe, per differenze su numeri, si possono anche mettere in ordine i valori. Tutte queste cose sono da fare sempre con cautela, perché quando si ragiona su delle query di questo tipo, noi stiamo impostando degli indici. Cioè se noi vogliamo fare una ricerca per ordinamento o per il fatto che contenga una stringa o meno, App Engine creerà un indice per eseguire questa ricerca, quindi sono intensive a livello computazionale. Search API. Ok, allora la parte giusta, la parte su come ottimizzare la scalabilità, la vediamo fra 5 minuti. Qui c'è un intermezzo su come cercare questi dati in maniera più efficiente. Abbiamo visto, mettiamo e vogliamo cercare tutte le activity che contengono la parola ciao. Possiamo fare, come facevo vedere qua, activity.content, in quel caso, per ognuno di questi scarichiamo il content e poi in Python andiamo a vedere se ciao è una substring di questo content. Ora ovviamente questa cosa non è fattibile, perché vuol dire che ogni volta che facciamo una richiesta dobbiamo scaricare tutto il contenuto di tutte le activity in locale e cercare una cosa alla volta. Quindi esiste un API per fare esattamente questa cosa, è l'API di Full Tech Search, dove noi abbiamo una sintassi di ricerca molto avanzata e soprattutto super veloce per fare questo tipo di ricerche sempre dentro App Engine. Come funziona? È un documento separato, non possiamo lavorare direttamente su Data Store. Creiamo una copia praticamente ottimizzata con le informazioni che ci interessano da cercare dell'activity e la mettiamo nella Search API. In questo caso nella Search API possiamo fare delle ricerche come per esempio Hello, Search Hello, cerca qualsiasi cosa che contenga Hello da qualche parte. Oppure delle ricerche un pochino più avanzate, per esempio se riuscite a leggere la seconda riga content, due punti, Hello, le activity che contengono Hello dentro al contenuto. and published maggiore di una data. Come noterete queste ricerche magari per qualcuno di voi sono già familiari perché sono simili a quelle che si fanno in Gmail o direttamente in Google Search. La cosa molto potente di questa interfaccia è che è praticamente utilizzabile da un umano direttamente, non è neanche codice complicato, uno può fisicamente scrivere content, due punti, ciao, ed è abbastanza intuitivo per essere usato direttamente come piattaforma di ricerca. Vi do un esempio velocissimo di questa cosa, cui poi ritorneremo dopo. Nel prototipo che ho sviluppato, che vedete qua, questa è una ricerca, quindi se io in questo caso scrivo una frase, in real time lui va a cercare su tutto il dominio di Google+, le attività che contengono questa frase. E in questo caso posso fare anche ricerche del tipo date e mettere, vediamo, l'8 ottobre. No, date non esiste, published. Ecco qua, per esempio queste qua sono tutte le attività pubblicate l'8 ottobre. E posso fare queste ricerche senza dover avere complesse interfacce di ricerca, ma con una semplice stringa comprensibile da un umano. Gli indici sono incrementali e non vengono generati, ma vengono aggiornati ogni volta che si inserisce un documento. Esatto. Quindi non è una rigenerazione dell'indice, ma è un indice incrementale. Questo vuol dire che non ci sono mai dei momenti in cui è più lenta la ricerca e vuol dire che l'unica operazione costosa è l'inserimento di un documento. Sì, certo. Però essendo in sola lettura, praticamente non ci sono molti problemi di... È eventually consistent. Sì, esatto. Quindi se uno inserisce un documento in un punto dell'infrastruttura, non è detto che sia subito disponibile il millisecondo dopo. Però è solo in lettura, quindi non ci sono problemi di consistenza su scrittura. Non si può modificare i dati, si possono cancellare e sostituire, quindi i problemi sono molto limitati. Un'altra funzione interessante che può piacere è che si supporta anche la ricerca per distanza, quindi pensate di unire questo per esempio con le geolocation API di Google e uno può cercare in maniera indicizzata activity per esempio che sono state pubblicate nel giro di 10 km da dove mi trovo in questo momento. Ah, present. Ecco qua. Le cose disponibili a livello di Search API sono, diciamo, i campi disponibili da cercare sono HTML, testo, campi di data. Atom vuol dire una stringa dove io non considero il testo come un paragrafo ma come una stringa esatta. Per esempio un indirizzo email non ha senso cercare una sottoparte dell'indirizzo email ma si cerca l'indirizzo email esatto per avere un match. numeri e geolocation. Per inserire un documento è semplicissimo si vede, si seleziona un indice in questo caso activities document.put index.put del document molto simile a indb. Per fare la ricerca questo è un pezzino di codice che fa quello che abbiamo visto prima a livello di Python quindi è il pezzo di codice che sta dietro all'applicazione che avevo fatto vedere e se volete sperimentare come prima si può fare direttamente nella console quindi senza bisogno di passare subito al Python si può iniziare a giocare direttamente qua da full text search si seleziona l'indice e uno può eseguire direttamente una query per esempio hour e si ottene già una lista di documenti che matchano questa query. Ora prendo un documento potrebbe sorgere il dubbio questo non è il mio documento del data store cosa me ne faccio di un documento della search API se non posso avere il documento originale? La risposta è semplice nel documento io devo salvare anche la chiave del documento originale quindi il processo è faccio una ricerca con le search API ottengo dei risultati questi risultati contengono dei puntatori al mio data store e dopodiché io vado a prendere i dati dal data store utilizzando direttamente le chiavi. Il data store è super ottimizzato per l'utilizzo delle chiavi quindi se vado a fare una query sapendo già la chiave dell'oggetto il costo è praticamente nullo perché so già esattamente dove andare a prendere l'oggetto. Facciamo un esempietto di codice su Python sono alcune altre funzioni interessanti che si possono far vedere della search API per arrivare a un'implementazione che è un po' più simile a quello che vedete nella pagina di ricerca Google qua io importo la search API decido una stringa di ricerca in questo caso hour per esempio creo l'oggetto di ricerca qua è un pochino confuso il mio esempio ok creo un oggetto di ricerca a vuoto dopodiché definisco l'oggetto della query in base alla stringa di ricerca e le opzioni che ho definito che erano in vuoto in questo caso scelgo un indice eseguo la ricerca la ricerca mi ritorna un array di oggetti per ogni oggetto ho i vari campi di cui posso vedere il value e se eseguo questo dovrei ottenere esatto dovrei ottenere praticamente la lista dei contenuti degli oggetti di ricerca quindi qua non stiamo andando a chiamare il data store sono direttamente i contenuti dall'oggetto di ricerca quando avete fatto la pagina di riassunto immaginate la pagina di riassunto di google.com lì non vai a vedere il vero oggetto che contiene tutte le informazioni su quel sito è una sintesi semplicemente per far vedere dei risultati intermedi della ricerca l'ultima funzione che volevo farvi vedere simpatica è snippet fields praticamente quando fate una ricerca e cercate per una parola come hour in un testo di 10 righe o di 100 pagine perché qua può scalare penso che il numero massimo di caratteri è di 1024 alla 1024 quindi documenti abbastanza fate voi il calcolo documenti abbastanza grandi per sapere dove sei andato a fare il match della diciamo della stringa cosa hai trovato c'è questa funzione snippet fields che ci permette di evidenziare la parte che abbiamo matchato quindi cancelliamo questa parte qua esatto qui praticamente stampiamo non direttamente il contenuto ma l'espressione dello snippet field è un html può sembrare molto confuso a vedersi così ma se lo portiamo in un visualizzatore di html come per esempio jspiddle otteniamo questa rappresentazione quindi non so se si vede bene da lì praticamente abbiamo automaticamente senza dover scrivere nessun pezzo di codice abbiamo dei riassunti delle query che fanno matching sui documenti con i pezzettini che fanno matching e in grassetto le parole che hanno matchato tutto questo senza dover scrivere codice per generarlo e tutto questo integrato appunto in app engine senza dover importare o installare niente di esterno perfetto torniamo alla presentazione ok quindi la parte di search è finita facendo un recap velocissimo abbiamo scaricato le informazioni da google plus le abbiamo salvate le abbiamo rese cercabile attraverso le search api a questo punto il nostro compito è ottenere dei dati aggregati dei dati aggregati in questo caso ho fatto l'esempio di numero medio di plus one plus one per chi non utilizzasse google plus è il corrispettivo dei like di facebook i plus one dipendono da ogni attività chiaramente e per fare una media dobbiamo contare tutti i plus one che sono stati fatti e dividerli per il numero delle attività chiaramente tutte le persone che utilizzano SQL in questa sala la prima cosa che pensano è io faccio un select average funzione aggregata di tutto quello che è activity e ottengo direttamente la mia media dei plus one c'è un modo per fare questa cosa in NDB cioè nel data store sì è questo molto bello molto pulito molto semplice sono cinque righe di codice per fare una cosa banalissima e voi vi chiederete perché devo scrivere tutta sta schifezza per riuscire a fare quello che in SQL facevo con quattro parole semplicemente perché non dovete farlo è brutto perché è sconsigliato perché non è l'approccio giusto con un data store no SQL ma scusa allora in questo caso questa è un'ottima domanda però non vinci la vorracina è un'ottima domanda nel senso che su App Engine si può si può scalare il numero di richieste che faccio nel senso che io devo utilizzare dei cursori per sapere a che punto sono arrivato nella mia richiesta cioè io non posso sapere quanti oggetti ho nel data store dal nulla perché il data store essendo distribuito essendo pensato per l'efficienza non ha funzioni quali per esempio il conteggio degli oggetti o un offset una cosa che si può fare in SQL in maniera efficiente se ci sono indici è utilizzare un offset in App Engine c'è la funzione offset cosa fa dietro le quinte la funzione offset se gli 10 parti dal numero 1000 lui va nel data store si passa tutti i primi 1000 li ignora e poi inizia dal 1001 che non è esattamente quello che vogliamo perché sì ci arrivano solo dal 1001 però a livello pratico abbiamo pagato tutti i 1000 precedenti quindi questa è una cosa molto brutta da fare perché se no più di 999 il mio codice chiaramente non funziona quello che sarebbe da fare è prendere un cursore vedere dove si è arrivati se ce ne sono ancora riparto e vado avanti col cursore fino a quando arrivo alla fine del data store stessa cosa si fa anche con le richieste sull'API quindi tornando all'esempio non è questo il metodo appropriato quindi qual è il metodo appropriato perché non esiste una funzione average questo è quello che dicevo prima perché non scalano sufficientemente e la risposta è contare ogni volta che inseriamo un activity ogni volta che salviamo un activity noi sappiamo qual è il numero di plus one di questa activity e sappiamo e possiamo utilizzare un contatore per sommare questo numero a qualcosa che ci teniamo salvato così ogni volta che dovremmo chiedere la media non dovremmo calcolare questa media dobbiamo leggere la media la media viene aggiornata progressivamente ogni volta che salviamo qualcosa questo è proprio un modo differente di ragionare io ho passato il primo mese e mezzo sviluppando questo prototipo a ragionare come ragionavo tipicamente con SQL dopodiché ho visto che le cose continuavano a non funzionare bene più aumentavo il numero di utenti e ho capito che il problema non era App Engine ma è proprio l'approccio che si usa per fare questo tipo di computazioni quindi funziona in due parti un post-have hook cioè qualcosa che si esegue dopo il salvataggio dell'activity che altro non fa che prendere un oggetto report sommare uno al numero di activity e sommare il numero di plus one al numero di plus one totali dimmi mi stai dicendo che con questo approccio in pratica qualunque tipo di funzione a livello aggregato che in SQL ha utilizzato con le funzioni di aggregazione non lo devo fare se lo programmato prima e aggregarle esatto sì esatto detto così sembra sembra un peso per lo sviluppatore effettivamente è un peso per lo sviluppatore è un approccio diverso però se pensi per esempio faccio l'esempio di YouTube pensa al numero dei like il numero dei like sui video di YouTube chiaramente sarebbe impossibile contarli al momento quando uno apre una pagina di YouTube deve essere salvato da qualche parte viene salvato al momento in cui faccio un like dentro a un contatore ma anche in SQL a volte sì sì anche in SQL si può fare esattamente in SQL chiaramente a quel punto perdi il vantaggio cioè se fai una cosa del genere in SQL ha poco senso perché a quel punto se già ragioni in questo modo tanto vale andare su qualcosa di distribuito cioè tanto vale passare a un SQL che ti dà altri vantaggi SQL il bello dell'SQL è tutta la partita analitica di struttura dei dati per esempio nella business intelligence spesso queste aggregazioni esatto la slide dopo anzi fra due slide faccio vedere la risposta anche a questa domanda beh chiaramente questo codice è un esempio però se uno fa un update dell'activity può vedere il diff cioè il delta e sottrarlo dal totale questo è un esempio semplice ma funziona più o meno su tutte le aggregazioni esatto e adesso arrivo anche a questo punto qual è l'impatto su una delle transazioni che genera un approccio piuttosto che l'altra e quindi poi dopo su quello che si vanno a pagare allora sì sono tutte domande ottime e sono le due delle prossime slide praticamente quindi adesso finisco queste due slide e poi ritorno a quelle domande questa è proprio la slide dopo ok allora quindi per ottenere risultato a questo punto vado a prendere il mio oggetto report faccio la divisione e ottengo la media domande prima domanda accesso concorrente al report voi sapete che in data store o in media è consigliato di non fare più di una scrittura al secondo su un oggetto o su un entity group entity group nel senso che come vedete in questa slide gli oggetti possono essere collegati tra di loro con il rapporto padre figlio dove il figlio è collegato al padre e se ci sono delle scritture sul padre o sul figlio sono tutte consistenti all'interno del gruppo questo cosa vuol dire posso leggere quanto voglio nel gruppo ma posso scrivere più o meno una volta al secondo in realtà funziona anche 3-4 volte al secondo però è sconsigliato di scrivere troppo sullo stesso gruppo un report è un oggetto singolo e chiaramente è un gruppo quindi si può rischi di perdere consistenza no vuol dire che la put fallisce viene riprovata viene riprovata qualche volta puoi assolutamente perdere consistenza se viene salvata dopo 5 volte intanto stai facendo qualcos'altro però è raro perché sul singolo entity group di solito lavori da un thread singolo un entity group immaginatelo come un utente un oggetto nell'interfaccia non bisogna mai mischiare qualcosa che può essere utilizzato da punti diversi nel singolo entity group è un qualcosa di coeso la risposta a questo problema è secondo me molto affascinante e cioè se un contatore da solo non è sufficiente perché la gente non può scriverci abbastanza spesso semplicemente facciamo più contatori facciamo un centinaio di contatori e quando dobbiamo aggiungere qualcosa a un contatore ne scegliamo uno a caso e sommiamo il numero di plus one in questo contatore casuale questo si chiama sharding e semplicemente vuol dire parallelizzare dei task che poi sono riducibili attraverso una funzione di aggregazione in questo caso di somma questo codice non sto a spiegarlo passo per passo ma il concetto è quando salvo un activity estraggo un numero casuale da 1 a 100 sommo il numero di plus one in quel contatore casuale che ho scelto e quando poi voglio avere la risposta vado a leggermi tutti i contatori sommo i dati e lì ottengo la risposta complessiva che posso salvare a quel punto sul singolo oggetto report dove non avrò più problemi di consistenza cosa abbiamo risolto qua in realtà non abbiamo risolto soltanto il problema di consistenza sulle scritture concorrenti ma anche il problema di consistenza sui lock perché voi pensate se io faccio una put e devo mettere un lock un lock per evitare che ci siano problemi di consistenza sui dati se io ho due modi per evitarlo questo problema di consistenza o metto un lock e quindi blocco l'entity group oppure faccio in modo di non scrivere troppo spesso in questo modo limitando il numero di scritture avendo tanti tanti counter non sto neanche a mettere i lock perché potete calcolare la probabilità di perdere informazioni a qualcosa come uno su un miliardo alla un miliardo di probabilità perché praticamente è impossibile che si sovrappongano due richieste questo è quello che a livello pratico funziona per esempio su youtube sui like funziona in questo modo e poi ci sono dei task che in background vanno una volta al mese per controllare se forse c'è stato qualche errore però a livello pratico funziona in questo modo sulla buona fede come dicevo prima a qualcuno chiaramente tutte queste cose si possono fare anche perfettamente con BigQuery o Hadoop quindi MapReduce ed è l'esempio perfetto ma chiaramente meno efficiente però è più flessibile allora la parte principale del mio talk è conclusa la parte appunto su come prendere i dati e elaborarli tre minuti finali semplicemente per mostrarvi un po' il risultato di tutta questa parte abbiamo preso i dati li abbiamo salvati resi cercabili resi interessanti da livello aggregato quindi con delle statistiche anche se soltanto la media dei plus one a questo punto vogliamo condividere questi dati con il mondo con dei siti web con delle applicazioni quindi creiamo un API non mi dilungo su questa parte perché l'avete già vista l'API si può fare come vi pare a voi con framework in Python come per esempio Django o Web App 2 oppure con Google Cloud Endpoints la risposta semplice per Google Cloud Endpoints è avete tutti i vantaggi che a usare un API vera di Google quindi tutto quello che abbiamo fatto prima lo potrete fare poi con la vostra API che avete creato gira su infrastruttura Google quindi scala chiaramente molto meglio che un framework Django e ha un sacco di vantaggi come per esempio anche l'API Explorer la documentazione generata e i client generati automaticamente per Java Python e JavaScript parte finale interfaccia sondaggio rapido quanti di voi conoscono AngularJS? nessuno da quella parte zero? vabbè dai già qualcosa AngularJS è un progetto abbastanza innovativo di Google per creare delle interfacce grafiche in JavaScript per creare dei sit-in del JavaScript che sono completamente separati dalla parte del back-end questo cosa vuol dire che potete lavorare in due team separati una team genera l'API un team scrive la sua interfaccia in AngularJS e consuma queste API per generare un'interfaccia dinamica quindi API parlano con il controllo di AngularJS il controllo di AngularJS aggiorna dei dati e questi dati aggiornano di conseguenza l'interfaccia quello che è il risultato finale è questo come avete visto prima un sit-in dove se io cambio un dato in automatico l'interfaccia si aggiorna all'istante e mi permette di fare cose molto complesse senza mai andare a mischiare interfaccia quindi view controller o dati questi sono alcuni report che genero con le charts API alcune statistiche tutto questo è fatto in AngularJS se avete dubbi se siete interessati a questa parte c'è il sito di AngularJS che è molto interessante e molto ben fatto e sì questa parte qua la possiamo saltare e direi che la presentazione è finita iscriviti al nostro canale